Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, novità per la rete di bus del nono municipio in zona Torrino-Mezzocammino è cambiato il percorso della linea di bus 787, la linea inoltre ora è una circolare con capolinea unico a viale di Valfiorita ed è stato prolungato a Torrino-Mezzocammino il percorso della 708, una novità che interessa anche le corse scolastiche, dettagli su romamobilita.it Le altre notizie in occasione della giornata mondiale della salute domenica torna l'appuntamento con Bicin Rosa, biciclettata solidale per sostenere la prevenzione dei tumori al seno e la vita attiva, l'appuntamento con le bici il 7 aprile è a Caracalla dalle 11.30, dettagli su bicinrosa.it Grazie a tutti!